Poiché l'aglio e lo scalogno sono tendenzialmente abituati a una moltiplicazione assessuata, quindi poiché di solito non si usano i semi, ma se noi vogliamo prendere in analisi una testa con i suoi vari spicchi, ciò che si usa è direttamente lo spicchio. Lo spicchio è già vivo quando ne lo piantiamo, ha già dentro un germoglio, ha già dentro tutti i meri stemi da cui partiranno le radici, cioè quello spicchio, quella pianta è già ed è già praticamente il codice genetico di tutta la sua linea parentale, in poche parole, cioè finché noi moltiplichiamo per spicchio l'aglio o lo scalogno, finché non lo facciamo passare per una riproduzione sessuata, il codice genetico comunque non si evolve. Questo è sempre bene ricordarlo e di conseguenza non avendo un piccolo semino che deve avviare tutta una serie di processi biologici per radicare, per partire con le foglioline e affrontare nella sua delicatezza la graticola della vita, ma abbiamo già uno spicchio stracarico di nutrienti, gli basta buttare fuori la foglia e partire, questa grande differenza che c'è lo spicchio dell'aglio e dello scalogno e il seme della cipolla o del porro ad esempio, fa sì che gli spicchi di aglio e di scalogno siano molto più facili da seminare, ci sia meno bisogno di tutti questi accorgimenti. Meno bisogno di tutto questo tempo. Allora, se noi abbiamo detto che in vista di una dormienza vegetativa invernale, la cipolla la andiamo a seminare tra fine agosto e inizio settembre a seconda dei casi, questa è la semina e la cipolla per avercela pronta verso ottobre-novembre. Nel caso, anzi facciamo una bella cosa, spostiamolo qua, ok? Noi sappiamo che qui abbiamo il nostro agosto, qua abbiamo il nostro settembre, qui il nostro ottobre, ok? Nel nostro caso noi non abbiamo bisogno di anticipare la semina con aglio e scalogno, noi possiamo mettere direttamente in terra lo spicchio a novembre. Lo possiamo mettere a dicembre, lo possiamo mettere a gennaio, lo possiamo mettere a febbraio. Questi sono tutti i momenti buoni per la nostra semina diretta di spicchi in campo. Come funzionano? Funzionano nello stesso modo. Facciamo finta che la semina venga fatta proprio a novembre, per inaugurare con il piede giusto l'anno agricolo, allora noi mettiamo lo spicchio. È il pieno dell'inverno, per cui l'elettrocardiogramma del caldo, l'elettrocardiogramma è piatto, di conseguenza lo spicchio nasce molto lentamente. Allora molto lentamente incomincerà a mettere fuori la foglia, ma molto velocemente incomincerà a mettere la radice, per cui anche in questo caso dormienza vegetativa, in un ipotetico livello del suolo, che potrebbe essere questo. Anche in questo caso, con l'aumento delle temperature, quindi con il calore ascendente, che è un metaforico autobus, un metaforico treno, che le piante spesso prendono per poter arrivare alla fioritura o al raccolto, man mano che aumenta questo calore, dalla dormienza vegetativa, si passa alla vegetazione vera e propria, per cui man mano che la pianta incomincia a mettere su sempre più foglie, cosa fa? Se la cipolla stratificava sempre di più il suo bulbo, qui avviene la divisione in spicchi, per cui gradualmente da uno spicchio che cede la sua energia ai tessuti interni, se ne creano tanti altri nuovi. ed è un processo graduale, che inizia tra aprile e maggio e finisce tra giugno-luglio o luglio-agosto, a seconda che abbiamo delle varietà precoci, seminate prima, in un clima più permissivo, o delle varietà tardive. Insomma, qui le varianti sono molteplici, però di solito le andiamo a raccogliere in estate, per cui abbiamo luglio come punto di riferimento. Allora, come abbiamo detto quando vedevamo le foto dell'orto in telechia, se abbiamo lo scalogno, caratterizzato da degli spicchietti più tondi, più cipollosi, anche la foglia è molto più cipollosa, se abbiamo lo scalogno e ci va a creare una testa ben formata, come capiamo che è pronto da raccogliere? Lo capiamo perché il ciuffo, come la cipolla, essendo molto imparentata, si stende, per cui piega il collo. Allora la piega del collo è il segno che lo spicchio è pronto ad essere raccolto. Nel caso dell'aglio, ve lo ricordo, sono le foglie più basse che incominciano a perdere il colore. Io in questo disegno glielo sto dando, ma a riferimento del fatto che loro lo vanno a perdere. Benissimo. Facciamo un passo indietro. Cosa è successo? È successo che noi da novembre a luglio abbiamo avuto una stagione molto semplice in cui siamo riusciti a passare da uno spicchio a, ad esempio, dieci spicchi, perché una testa d'aglio mediamente ti può fare dai sei ai quindici spicchi, mediamente si dice dieci. Questo vuol dire che è una stagione molto più compressa, molto più ristretta. È annuale, è oggettivamente annuale. Ci mette un anno per produrre una testa, un anno per moltiplicare lo spicchio, lo spicchio è già pronto a disposizione per cominciare il nuovo anno. Quando? Ma subito. Noi questo spicchio che abbiamo raccolto già a novembre lo possiamo andare a seminare. Mi raccomando, questo periodo è buono anche a dicembre, anche a gennaio, anche a febbraio, ok? Che cosa ci impedisce di valorizzare questo momento? Ma il clima, il meteo, in funzione a noi. Se piove un casino è difficile fare l'orto. Allora si cerca di anticipare, magari, se c'è un bello ottobre, un buon ottobre, prepariamo il terreno in vista della semina. Quando abbiamo il terreno già preparato è un attimo fare la semina. Per cui ipotizziamo di valorizzare ottobre per la preparazione della nostra iguola, con la nostra lavorazione del suolo, con la pacciamatura, tutto quello che serve per preparare il suolo. Poi dopo abbiamo tutto il tempo che vogliamo per poter seminare e lì sta a noi la scelta. Se prima o dopo il picco del freddo. Se abbiamo detto che le cipolle le seminiamo un po' prima del nostro periodo ideale, che potrebbe essere quello che va da novembre a febbraio, così arriviamo a fare il trapianto in questa fascia, mentre in questa stessa fascia noi andiamo a mettere i bulbini di aglio e di scalogno, mentre la nostra cipolla è già in piantina. Il seme del legume, e qui parliamo di legumi invernali appunto, per cui...